Amici di Cusano Italia TV, benvenuti a questa puntata della Chiamano Estate. Una puntata che vedrà una sorta di mix, potremmo dire, tra quello che è l'appuntamento della domenica sera alle 21, crimini e criminologia, e quello che è invece l'appuntamento del giovedì alle 20, a spasso nel tempo in cui parliamo di storia antica, moderna e contemporanea. Infatti in questo primo capitolo della Chiamano Estate ci concentreremo su un triste anniversario. Sono passati infatti 31 anni dal 7 agosto 1990, quando fu uccisa Simonetta Cesaroni, il giallo di Via Poma. Infatti parleremo di questo, poi nel capitolo secondo andremo alla storia e ripercorreremo insieme a uno degli storici dell'Università Nicolò Cusano, la corsa allo spazio, con particolare riferimento poi a quello che fu lo sbarco dell'uomo sulla Luna che avvenne nell'estate del 1969. Ma con la regia di Manuel Mazzei procediamo per gradi. Il 7 agosto del 1990 abbiamo detto una ragazza fu uccisa a Roma, si chiamava Simonetta Cesaroni e la sua storia è diventata uno dei casi di cronaca nera più famosi e discussi della storia del crimine nel nostro paese. Spesso si fa riferimento a questa vicenda con l'espressione il delitto di Via Poma o il giallo di Via Poma perché Simonetta Cesaroni venne uccisa in un palazzo di Via Carlo Poma 2 nel quartiere Prati a Roma e questa storia veramente oscura ancora oggi non è stata risolta. Simonetta Cesaroni aveva 21 anni e lavorava negli uffici dell'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù che aveva sede proprio in quello stabile di Via Carlo Poma 2. Il 7 agosto del 1990 l'ufficio era chiuso ma il suo datore di lavoro Salvatore Volponi le chiese di andarci lo stesso per tenere la contabilità. I genitori di Simonetta la aspettavano a casa per cena e verso le 20 e 30 non vedendola arrivare la sorella, il fidanzato e lo stesso Volponi che vediamo in foto andarono all'ufficio di Via Poma e costrinsero la moglie del portiere Pietrino Vanacore ad aprire la porta. Simonetta Cesaroni era sul pavimento con addosso solo i calzini, la canottiera arrotolata sul collo, il reggiseno calato verso il basso e ferita a morte con 29 coltellate su tutto il corpo. Probabilmente fu usato un tagliacarte o qualcosa di simile. Sul seno c'era anche il segno di un morso, si è detto e scritto. Le stanze dell'Aiag erano in ordine, il pavimento era pulito, sulla maniglia c'era del sangue. Dopo questo breve prologo per ricordare a grandi linee i fatti del giallo di Via Poma, ci colleghiamo col primo ospite di oggi. È un piacere ritrovare Mauro Valentini, giornalista e scrittore. Bentornato a Cusano Italia TV. Ciao Fabio e buona estate a tutti. Buona estate, il caso di dirlo perché si chiama proprio La Chiamano Estate, questo appuntamento di Cusano Italia TV, ma ovviamente noi ci stiamo concentrando su un grave fatto di cronaca che come detto ha caratterizzato la storia del crimine in Italia, un fatto avvenuto proprio in estate, era il 7 agosto del 1990. Ti chiedo subito Mauro, un ricordo di quei giorni, un ricordo tuo personale. Una notizia che ha fatto comprendere subito che c'era qualcosa che non andava e ha infatti riempito immediatamente le pagine dei giornali. In genere questi casi di cronaca diventano casi di cronaca piano piano. Piano piano escono delle informazioni e si monta un pochino il caso. Qui esplode immediatamente, vuoi per la brutalità di quello che è accaduto alla povera Simonetta, e vuoi anche perché immediatamente si comprende che c'è qualcosa di nascosto e di poco chiaro e che non è un semplice omicidio di un brutto assassino che incontra per caso Simonetta, ma che c'è una certa relazione sicuramente tra lui e lei. Ecco, io ricordo in modo particolare, ero a Rimini in quelle giornate di agosto del 1990, acquistai il messaggero e trovai la scritta, proprio il titolo, che era stata uccisa questa ragazza in Via Poma. Questo per dire che il giallo di Via Poma è uno di quegli eventi, di quei fatti di cronaca che poi restano impressi nella memoria di chi li ha vissuti. Ecco, perché ti ho chiesto che ricordo hai tu in particolare. Cioè, a me colpì subito questa vicenda, anche se avevo iniziato da poco a fare il giornalista. Io ero a Roma e non ero ancora partito e devo dire che c'è stato un tantam, non c'erano i social, ma insomma un tantam immediato e si è intuito subito che qualcosa di forte era accaduto. Io ho un piccolo ricordo personale di mio padre che lavorava lì vicino e che a un certo punto si è reso conto che era successo qualcosa ancora prima di aprire i giornali perché la mattina trovò una marea di persone tutte intorno a quel palazzo. Purtroppo tra tutte quelle persone non c'erano quelli che dovevano in qualche modo congelare quella scena e cercare di partire immediatamente. Come noi sappiamo tutti, purtroppo, se non si parte col piede giusto subito, ma si tergiversa o si dà retta a teorie abbastanza fugaci e fumose, si perdono degli elementi che poi non tornano più. Uno per tutti, stigmatizzato da tutti, fu il fatto che non furono sequestrati i secchi dell'immondizia l'intorno, anzi si concesse alla società, all'ama, di svuotarli forse togliendo degli elementi importanti. Certo, e infatti poi ne parleremo, furono commessi tanti errori. Ricordiamo a due giorni dall'omicidio le indagini puntarono sul portiere dello stabile Pietrino Vanacore perché sui suoi pantaloni furono trovate macchie di sangue. Per il giudice delle indagini preliminari il colpevole doveva essere una persona conosciuta dalla vittima in quanto non c'era disordine nell'appartamento e mancavano segni di colluttazione prolungata o di un tentativo di fuga. Probabilmente la persona era anche rimasta all'interno del palazzo, altrimenti per la copiosità del sangue uscito l'aggressore sarebbe stato costretto a percorrere i locali del condominio e con i vestiti abbondantemente insanguinati. Vanacore rimase in carcere 26 giorni, poi le analisi accertarono che quelle macchie di sangue sui suoi pantaloni erano sue di Vanacore perché lui soffriva di emorroidi. E così le indagini ripartirono da zero. Quello fu, per così dire, il primo grande errore a tuo giudizio, Mauro? Secondo me l'intuizione era giusta. L'assassino conosce Via Poma, conosce quello stabile, conosce quella palazzina B e sa come muoversi lì dentro. Probabilmente è anche aiutato e ha la possibilità durante la sera di stare lì a ripulire perché la scena del crimine non trova il sangue rappreso, ma trova il sangue ripulito di Simonetta. Quindi c'è una familiarità nei movimenti all'interno che non è compatibile, altrimenti non sarebbe compatibile una fuga alle 4, alle 5, alle 6 poi bisognerà capire anche quando è morta. Certo, ci sono grandi dubbi proprio sull'orario. Comunque, tra le 16 e le 18 comunque non si esce su Via Poma anche il 7 agosto imbrattati di sangue e quindi la sensazione che si ha è che qualcuno abbia disposizione all'interno del palazzo. Non è vero che il palazzo fosse vuoto, questa è una leggenda tirata un po' fuori dai giornali che forse con una semplificazione hanno pensato a un quartiere molto borghese, il 7 agosto hanno tutti, come dire, la casa al mare o in montagna. Invece lì c'era un discreto via vai che non è mai stato analizzato veramente e la sensazione che ho io è che l'indagine fosse quella corretta, fosse partita immediatamente bene verso la logica che tu hai appena espresso, ma poi con Vanacore salta tutto perché era troppo semplice probabilmente lui, lui forse, la sensazione che si ha, e lui non potrà più dircelo purtroppo, la sensazione che si ha è che lui in qualche modo sapesse quello che poteva essere accaduto e chi lo avesse compiuto, poi insomma il suo suicidio ci rende, ci cancella questa opportunità perché è chiaro che, ripeto, all'interno lì si disponeva di chiavi, si disponeva di stracci, si disponeva di tutta la possibilità di una logistica tutta interna al palazzo. Hai detto bene, anche perché lo abbiamo visto in foto, quello è un condominio enorme, quindi non poteva essere deserto, anche se una volta ad agosto Roma si svuotava letteralmente, non è come oggi, non era come oggi, però guardate, avete visto, quello è l'ingresso di via Carlo Poma 2, ma all'interno ci sono tanti stabili che fanno parte di quel civico, quindi non possiamo dire, e non è stato giusto dire che fosse completamente deserto. Abbiamo visto prima la foto relativa alla strana morte di Pietrino Vanacore, anche tu ricordavi il suicidio e questa è un'altra vicenda legata al giallo di via Poma perché riguarda il 9 marzo di quando poi era in corso già il processo nei confronti di Raniero Busco, questa è un'altra storia nella storia, ricordiamolo nel settembre del 2007 Raniero Busco, il fidanzato, all'epoca era il fidanzato di Simonetta Cesaroni, nel frattempo si era sposato, qui lo vediamo giovane quando fu intervistato dopo l'omicidio di Simonetta Cesaroni, nell'altra foto l'abbiamo visto quando poi andò alla sbarra e fu formalmente indagato per omicidio volontario, si parlò di quattro prove a suo carico, una traccia di somiglianza, una traccia di saliva sul reggiseno che indossava la Cesaroni, una somiglianza dell'arcata dentaria di Busco con l'impronta lasciata sul seno sinistro della ragazza e una contraddizione nell'alibi dello stesso Busco, una compatibilità del suo DNA con una delle tracce trovate sulla maniglia nell'appartamento. Il processo di primo grado iniziò nel febbraio del 2010, il 9 marzo Pietrino Vanacore, il portinaio che nel frattempo era tornato a vivere in Puglia, fu trovato morto, si era legato a una caviglia un albero accanto a una scogliera e dopo aver bevuto un potente diserbante si era lasciato a negare in mare. Il 20 marzo avrebbe dovuto deporre al processo, lasciò scritti dei biglietti, 20 anni di sofferenza e sospetti portano al suicidio, lasciate almeno in pace la mia famiglia. E poi il 27 gennaio del 2011 il processo a Busco si concluse con una condanna a 24 anni di carcere per l'allora 46enne Raniero Busco. La procura aveva chiesto addirittura l'ergastolo. Poi successivi processi scagionarono l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. Ti chiedo, siamo andati vicini a un gravissimo ennesimo errore giudiziario, Mauro? L'innamoramento della tesi di cui parlava il vostro compianto collega, amico Sandro provvisionato. Qui ci si innamora di una traccia e dopo 20 anni la confusione la crea anche l'imputato insieme per esempio a sua mamma che trovano dei testimoni che poi vengono scardinati dall'accusa ma insomma pensare a Raniero Busco che parte da dove abitava lui che era oltre la Tuscolana per andare a Via Poma dove non c'era mai stato per fare un'azione delittuosa nei confronti di una ragazza a cui lui stava cercando di spiegare che non era l'uomo della sua vita. Insomma siamo effettivamente al contrario di quello che la logica porta. Non era Simonetta a rifiutare Raniero ma era Raniero che a un certo punto aveva detto a Simonetta che non ne voleva più sapere. Ora qual è la cosa che mi ha colpito di più di tutta questa vicenda? Innanzitutto il suicidio di Vanacore che probabilmente porta a casa e porta per sempre via un segreto inconfessabile probabilmente inconfessabile anche per lui a se stesso perché è un uomo nite insomma che non ha mai lasciato traccia di diciamo ombre su se stesso probabilmente un coinvolgimento c'era da parte sua e probabilmente non lo ha mai abbandonato per tutta la vita. Siamo sicuri che quello è un suicidio lo sappiamo perché dobbiamo credere che le scritte sono le sue perché insomma la comparazione è quella anche se la dinamica è un po' particolare ma insomma dobbiamo per forza credere che quello sia un suicidio e andando via comunque Vanacore fa un ennesimo favore a qualcuno perché non andando a testimoniare evita la di cadere in contraddizione e di doversi in qualche modo difendere da un reato di falsa testimonianza perché io sono certo che se fosse andato al processo sarebbe andato comunque in confusione perché ripeto lì c'è un segreto all'interno di quel palazzo di cui lui ha conoscenza e che non è stato in grado di gestire evidentemente. Sul Ragnaro Busco l'abbiamo detto come si fa ad ipotizzare l'arcata dentaria su un morso attraverso una foto e con neanche la certezza che quello fosse un morso. Anzi io mi permetto di dire e di ripetere quello che hanno detto illustri periti quello non è neanche un morso, quello è un atto di violenza che probabilmente è stato l'atto che ha scatenato la reazione di Simonetta che ha poi avuto purtroppo una controreazione che è stata colpita, ha perso i sensi e poi l'assassino ha perso la testa letteralmente perché una ferocia contro un corpo inerme di quel tipo non si è mai vista se non nei folli, nei serial killer. Qui dobbiamo credere che quest'uomo, probabilmente un uomo, questo è stato calcolato anche dalla potenza con cui è stata colpita Simonetta, insomma quest'uomo poi comunque non ha più ripetuto questa azione, quindi è stato proprio un cortocircuito incredibile dentro a quella stanza, ripeto con qualcuno che sicuramente conosceva Simonetta e che comunque aveva una certa, un certo grado di confidenza. Ecco voglio completare la vicenda processuale di Ragnaro Busco, a novembre 2011 cominciò il processo di secondo grado, la Corte d'Appello nominò tre superperiti con il testuale obiettivo in sostanza di rimettere in discussione tutte le prove che avevano portato alla condanna. Nel marzo 2012 la perizia smontò pezzo per pezzo tutti i principali indizi contro Ragnaro Busco, la ferita considerata come un morso poteva essere stata provocata da qualcos'altro, lo diceva prima proprio Mauro Valentini, le tracce di sangue sulla porta appartenevano a una persona di gruppo A, mentre sia la vittima che l'imputato erano di gruppo 0, fatto che in primo grado non era stato sufficientemente preso in considerazione, i reperti biologici sui vestiti della ragazza potevano appartenere a tre uomini diversi, la saliva sul suo reggiseno era invece quella di Busco ma la difesa aveva sempre affermato che i due, anche se si erano lasciati e stavano comunque lasciandosi definitivamente, continuavano ad avere dei rapporti e la perizia smontò anche in avanti l'ora dell'omicidio, il processo d'appello assolse Ragnaro Busco e nel febbraio 2014 la Cassazione confermò la sentenza. Andiamo adesso ad analizzare con Mauro Valentini prima di andare alle conclusioni quello che è stato un altro passaggio di questa vicenda a proposito di quando entrò nell'inchiesta Federico Valle, un altro personaggio tirato in ballo da un signor austriaco Roland Föller che andò alla polizia e raccontò una storia, disse che un giorno era al telefono con un amico quando per un contatto nella telefonata entrò la voce di una sconosciuta, l'austriaco e la sconosciuta fecero amicizia, si sentirono di nuovo, il 7 agosto la donna che era la mamma di Federico Valle disse a Föller di essere preoccupata perché il figlio era tornato a casa sconvolto e sporco di sangue dopo essere stato a trovare il nonno in via Poma 2 e dove il padre Raniero Valle aveva uno studio d'avvocato. I magistrati indagarono e nell'inchiesta tornò nuovamente Vanacore, portiere dello stabile, che si ipotizzò potesse essere il complice di Valle. Ecco, sulla vicenda Valle qual è la tua posizione? Io penso Fabio che se tu quella storia lì che hai adesso appena appena raccontato la metti dentro a un romanzo, tanto per rimanere in tema, io credo che non troveresti un editore che possa pubblicarti una storia assurda come questa. Qui c'è stata un'azione probabilmente depistatoria oppure, non lo so, qualcuno forse ce l'aveva con la famiglia Valle per qualche altro motivo, perché mettere in piedi una storia così, ma soprattutto credere a una storia così da parte, come dire, a trovare degli inquirenti che ci credano è veramente assurda. Parliamo di contatti telefonici, parliamo di una donna che ha il sospetto che il figlio sia l'assassino più ricercato d'Italia, lo va a raccontare a un ipotetico Föller che si chiama come il centravanti della Roma e quindi esplode su tutti i giornali proprio per questa assonanza, sembra veramente un'azione da operetta se non fosse che qui in qualche modo si è continuato ad allontanarci dalla verità, che probabilmente non è stata così ben analizzata per esempio riguardo ad altri personaggi che sono stati coinvolti, che sono il datore di lavoro e tutti i colleghi che ruotavano intorno a questa agenzia di alberghi per la gioventù di cui non si è mai capito veramente dove fossero ubicati, che cosa facessero, dove stava in qualche modo l'organigramma e perché una come Simonetta dovesse agire da sola, non essendo una dipendente affermata, non era una socia, non era una ragazza a cui si affidavano le chiavi del destino di questa azienda. Bene, una ragazza così viene mandata da sola in un ufficio come quello a fare delle cose, che non si è capito, a inserire dei numeri, dei nomi senza qualcuno che la supportasse. Ecco, ho la sensazione che ci siamo persi un pezzo lì, ho la sensazione che quelle telefonate partite alla ricerca del presidente di questa associazione non siano state chiarite. Io credo che si possa in qualche modo ripartire da lì, rileggendo le dichiarazioni di tutti perché basterebbe solo rileggerle per renderci conto delle assurdità che ci hanno raccontato. Ecco, completiamo anche il discorso sulla vicenda relativa ai Valle. Si ipotizzò addirittura che il ragazzo avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni perché lei aveva una relazione con suo padre. Altre ipotesi invece riguardavano proprio il fatto che fosse entrato, che avesse lui stesso una relazione con Simonetta. Nel 93... Ecco, scusa Fabio, permettimi di dire che poi da lì parte un vilipendio nei confronti di Simonetta che non finisce più e che ancora tutt'oggi insomma porta a ipotizzare questo tipo di cose perché comunque rilanciare addirittura una relazione col papà del ragazzo è veramente in qualche modo giocare con la pelle e con la vita di chi è rimasto, della sorella e dei genitori perché poi difendersi da queste illazioni è veramente complicato. Io lo so per esperienza diretta avendo visto chi è stato vittima di queste illazioni per altri casi e quindi direi che veramente lì c'è stata un'azione irresponsabile da parte di qualcuno che probabilmente ha tirato fuori, ha tirato su il polverone giusto per coprire tutto. Hai detto bene, era il 92 quando iniziò tutta questa storia con protagonista Roland Föller. All'epoca Rudy Föller invece era un giocatore della Roma quindi questa omonimia immaginate, che titoli di giornale. Poi si è saputo che era anche un personaggio poco raccomandabile legato ai servizi segreti questo Föller. Che strano eh? Giusto? Dico che strano, era legato ai servizi segreti. Sì, è giusto no? Alla fine è uscita fuori questa storia. Non ce lo saremmo mai aspettato poi. Eh infatti, nel 93 Valle e Vanacore vennero prosciolti, la Corte di Cassazione confermò la decisione di non rinviare a giudizio i due indiziati. Ma come diceva Mauro Valentini in quegli anni sul giallo di Via Poma si romanzò a 360 gradi. Furono fatte diverse ipotesi come è venuto spesso per tanti misteri italiani. La banda della Magliana, un possibile coinvolgimento dei servizi segreti, il fatto che Simonetta Cesaroni avrebbe scoperto casualmente nel computer dell'ufficio documenti che non avrebbe dovuto leggere. Poi nel 2005 le indagini ebbero una presunta svolta eh grazie alle nuove tecniche investigative, cioè le analisi sul DNA e da lì la vicenda e tutta la via Crucis per il povero Raniero Busco. A chiusura di tutto questo, che idea ti sei fatto? Sei stato già abbastanza chiaro, mi pare di capire che secondo te comunque il colpevole va ricercato all'interno di quello stabile, no Mauro? Non un'occasionale. Ho la sensazione che possano essere addirittura due le persone che sono entrate in quel appartamento. Sono convinto che Simonetta li conoscesse, sono convinto del fatto che l'azione parte da una da un'aggressione diciamo sessuale oppure magari da un approccio sessuale che poi diventa aggressione, ma sono convintissimo che tutto va cercato dentro a quel palazzo e sono anche convinto che ci sia ancora margine ed elementi per trovare il colpevole, perché sono abbastanza certo che con le nuove tecniche e con un po' di buona volontà e ripeto, rileggendo le carte, secondo me è sbagliato pensare che le ricostruzioni di eventi di questo tipo possono passare solo dai periti, dalla tecnica e dalla tecnologia digitale oppure dalla quella del DNA, quella molecolare. Io sono convinto che si possa semplicemente rifare un pochino di indagine dal punto di vista proprio poliziesco, rileggere tutto e trovare gli elementi di disaccordo, perché come abbiamo detto c'è stata una concentrazione forte su alcuni personaggi ma non su altri. Secondo me basterebbe questo per rimettere i cocci insieme e per dare un sentimento di giustizia ai genitori di Simonetta che hanno sofferto tanto soprattutto perché poi a un certo punto quando diventi un nome che diventa un nome iconico quasi della cronaca, in qualche modo ti marchi a vita non solo per il dolore ma anche perché tutti ti riconoscono.